Il secondo punto consecutivo per Manuel Coscione e il terzo per Verona che sta lasciando a zero la CMC che tocca ancora una volta il nastro, sembra cercarlo gran difesa di Pesaresi Gasperini la mette di là la difesa di Pesaresi la tiene Verona Mamma che spettacolo, Taylor Sander di là Cavanna, Gabriele, Murato ancora l'argentino, Pesaresi cos'è andato a prendere Gasperini la ributta nel campo della CMC che ci riprova grossa difficoltà l'attacco Ravennate Gasperini, buona la difesa di Cebuli Per Enan, Murato, ancora viva, che azione infinita il muro di Verona, Ravenna che la tiene viva Cebuli che ci prova Simone Anzani la mette giù, che punto signori, che punto 4-0, questa volta è Anzani solo applausi, dice giustamente lo speaker del Palo Olimpia per entrambe le formazioni che hanno dato vita a uno scambio spettacolare Grazie